E' da volare! Vai! I cavalli, eh! E' da volare! Voi, voi, ascoltate il strato! Va bene? Vasi, viste! Facciamo la sposa! No, lasciamo bene! C'è una maestro! Sargente! Vedetenevola voi! Ma! C'è un tizio là dietro che si nasconde! Forse è un ladro! Venite avanti! Vieni in casa da noi! Voi, vieni! Vieni! Voi avete una spada! Vediamo cosa si deve fare! Vai, è la sua! È la sua la spada! Allora siete un ladro! Siete un ladro! Allora veniva la spada! Vieni! Ed è così timido che io sceglierò come sfidante una donna! Ehi! Voi, volete sfidare il cavaliere? No! Voi? No! Qua vedi una donna a fronte! La lady è timida! La tira in cambio! Queste donne mi sembra molto più braziosa! E' anche molto più braziosa! Lascendo io la donna, voglio combattere contro di lei! Di questo... Di questo... Su! Di famiglia! Guardia contadina! una donna non male non male avanti donna il pubblico vuole il sangue non posso uccidere una donna ma come vedete sono io il cacciatore del drago e l'andrù uccidere un drago donna non mi convince che cosa facciamo io a questa parte non la sento ha fatto una domanda ti convince finalmente qualcuno che ha un po' di pace in questo petto allora me lo merito o no l'applauso affrontate un vero cavaliere evitiamo a comandare ce l'ho io il vostro pensato no come a voi siete fuori gara una spada sono pienamente in gara allora allora una cosa aspettate devo andare vantemi avanti avanti e va bene combatterò uomo dimostratemi di che sto qua siete fatte e poi vantemi avanti io adesso che vincita cavaliere giallo e cavaliere nero nero giallo nero giallo nero mi state affettando il pubblico e la vedo da solo è un codardo te ne raccogliettavo a sta sfada viva morto viva non capisco ma è un ciclo cavaliere guarda io non faccio un nome ma dietro corredo alla fine siete un prote berete bene come carne da marciano per il drago raccogliete la vostra spada e su verso il castello pronto a diventare uno spuntino per il drago andiamo grazie a tutti e allora ringraziamo a questo mondo pubblico